Mediterre Bio, ovvero un progetto che rappresenta un'iniziativa importante sul piano nazionale nell'agricoltura biologica organizzata. E' stato questo il motivo della visita istituzionale della Presidente della Camera Laura Boldrini, ospite a Foggia nella Masseria Antonia De Vargas, proprio nell'ambito del riconoscimento del progetto Mediterre Bio. Tre i temi principali affrontati durante la mattinata, innanzitutto il riaffermare l'importanza del biologico come motore che sviluppa sostenibilità e prosperità dei territori. Poi il Mediterre Bio come strumento di aggregazione degli agricoltori e per la produzione agroindustriale di un cibo sano, pulito e sostenibile. Non da ultimo, Mediterre Bio come modello che integra processi agricoli e territori differenti, non solo nel nostro paese, ma in tutta l'area del Mediterraneo, che si fa strumento imprenditoriale per una sostenibilità ecologica, economica e sociale. La presenza della Presidente Laura Boldrini ha confermato la bontà del patto di alleanza stretto tra agricoltori allevatori, trasformatori e fruitori, come testimonia il titolo stesso dato all'iniziativa il biologico promotore di cambiamento dei territori. Il Sindaco di Foggia, Franco Landella, padrone di casa della mattinata, ha chiesto con forza a Laura Boldrini che la battaglia istituzionale sulla tracciabilità dei prodotti agricoli che riguarda da vicino il territorio venga portata avanti con ancora più vigore. L'amministrazione comunale di Foggia inoltre si è impegnata a farsi carico delle spese di viaggio per consentire ai ragazzi delle famiglie foggiane meno abbienti di visitare la Camera dei Deputati.